segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te vede io sono stato dal primo momento contrario all'invio delle armi penso che inviare le armi e oggi lo vediamo porti a un escalation oggi inviamo artiglieria pesante mulè naturalmente fa il suo mestiere non ci può dire anche se io trovo piuttosto discutibile che in un paese come il nostro non sia il prescito sapere diciamo in parlamento qualcosa il nostro paese invia sul piano militare ma io sono stato contrario fin dall'inizio perché penso che quella strada porti ad aggregare ad accrescere l'escalation ma come ho sempre detto non ho fatto di questo punto di dissenso il terreno di una polemica ideologica non dico voi siete tutti guerra fondai dico secondo me vi sbagliate in ogni caso ciò che trovo sconvolgente che anche da parte di chi ha scelto di inviare le armi non ci sia con pari forza la ricerca di una soluzione che non passi per le armi aspetti aspetti aspetti